Il tuo nome mi serve, non lo sapete Lo fai tol di Zandino Abbiamo perso qualche secondo Siamo 3 a 3 Calma, calma ragazzi Andiamo Andri, andrei сто vedere visup Dietro di lui Lascia Sì, non c'è nessuno. oh Giuliano oh fammi entrare non l'hai visto no no destra c'è la c'è la dai lì uomo il manovre oh Giuliano bravo 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 dai canto non ti ammala non ti prezzo due mani oh Giuliano sa qui come si fa dai le neccati tira di punta oh 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 no arbitro scusi uno mi taglia l'altro entra scusi giusto 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 ci aspettare che il giocatore esca davanti alla palla sono per questo non per altro eh giusto giusto sai mi giusto perché mentre lui è entrato ancora prima che tu uscire gli siete passati davanti gli siete passati davanti non te ne sei accorto tu tu no i tuoi compagni non ti dicevo niente oh oh bene uno solo qua non l'ho oh c'è nessuno qua non c'è nessuno qua eh oh hey oh oh portiere dietro nei due palloni oh oh Mario vennò prendero un altro in magazzino questo proprio fa magari piace God Giochiamo qualche secondo con questo, il tempo che lo va a prendere, è laterale comunque. Ma il pallone fuori si deve andare a prendere in tutto questo. No Mario, andò a prendere un'altra pallone, per voi. Ah ma si incastrò là, non è fuori. Perché non lo facevano cadere, scusi. Se l'ha provato il buone. Non lo faccio, vieni lì. Oh, davanti alla pallone. Il pallone, ragazzi. Cambio, cambio il pallone. Vieni, lo faccio il pallone. Mario, ma si incastrò là, non è uscito, io non l'avevo visto. Incastrò, non è uscito lì. E là perché non lo facevano cadere? Ma stai mai andando a prendere io, lo lascio volare. Infatti, questo mi sono chiesto. Io in tre pollici, io ne vedo un cavo. In tre. Guarda. Guarda, guarda, è il punto che è in giro. Non ci è in giro. Non ci è in giro. Di punti. Oh, grazie, grazie. Oh, vedete le foglie, non è là. Sul palo. Oh, uno qua. Oh, un uomo. Non c'è lento. Non c'è lento. Non c'è lento. E qua. E qua. Ci torniamo? Ok. Dai, 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 recuperiamo